Hai due scelte, o fai un altro uno contro uno contro di lui o un ginè, in questo caso io per fare due contro uno, quindi la prima finta te la condiziono io e mi devi fare la forbice lui ti viene semi attivo o semi passivo, facciamo un step alla volta, lui ti viene in avanti, non sta fermo, ti viene in contro, lui è attivo adesso, e ti puoi decidere, cerchi l'uno contro uno contro uno o fai un cerchio di due contro uno, ok? Ci segniamo, ci ruotiamo. Palla, palla, palla. Palla, palla, palla. Palla, palla. Palla, palla, palla. Palla, palla, palla. Palla, palla.